Sempre dal Neckon Forum 2024 sono in mezzo a due omaccioni vedete qua e allora vi presento Emilio Lodigiani di Tunka e poi abbiamo Alois Maschetti di DHL. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ben trovati, ben trovati! Allora io però mi sposto perché altrimenti non riesco a farvela un primissimo piano. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questo Neckon, davvero tantissima gente e ecco quali sono le vostre primissime impressioni visto che siamo ancora al primo giorno? Molto vivace direi quest'anno, di più dell'anno scorso ho notato un grosso afflusso, molti relatori, tanta richiesta anche da parte dei clienti, Molta curiosità su Shopify, tantissimo, infatti ho visto due o tre forum loro. Devo dire che l'inizio promette bene. Sì, anche secondo me c'è molta più gente dell'anno scorso, code per entrare, code per la macchina, code per prendere le scale, Cioè veramente, non so se è il doppio, ma tipo il 30% in più di gente rispetto all'anno scorso probabilmente c'è. Si parla moltissimo di intelligenza artificiale che è un po' la buzzword, è un po' il tema dell'anno. Però i temi sono molti. E vedo molte agenzie, vedo un po' un settlement del payment, dell'esterno di pagamento, vedo anche meno soluzioni di software, non so, tipo cloud, soluzioni di gestione dell'infrastruttura. Vero, cambiata. Perché c'è più offerta diretta della soluzione finale. Sì, della soluzione finale, vero, vero. Sì, della soluzione finale.